Mi hanno chiesto come fare a leggere una chiavetta USB con lo smartphone. Tutti i cellulari hanno dei connettori. I primi iPhone avevano il connettore Dock, sostituito poi nel 2012 con il connettore Lightning. Nel prossimo futuro avranno il connettore USB-C. Gli smartphone Android hanno sempre utilizzato lo standard micro USB, sostituito poi dal USB-C. Dopo aver capito quale tipo di connettore usa il tuo telefono, devi procurarti una chiavetta compatibile. Ti consiglio di procurartene una USB-C. La colleghi ed apri un File Manager, un'app che ti consente di leggere e scrivere i file. Su Android queste app sono quasi sempre preinstallate. Hanno icone e nomi diversi a seconda del produttore del dispositivo. Cerca sempre un'icona contenente una cartella. Sugli iPhone e sugli iPad quest'app si chiama semplicemente File e ha l'icona di una cartella blu. Apri l'app e potrai aprire, creare, spostare file e cartelle. Esattamente come faresti con Windows o con Mac OS. . . Grazie a tutti.